Tutta Italia davanti allo schermo e poi la gioia esplode da nord a sud dopo la parata di Donna Roma. Ai rigori l'Italia diventa campione d'Europa e un'emozione fortissima attraversa tutta la penisola. Dalle 23.55 per tutta la notte è festa grande. Gli italiani in tutto il mondo, ognuno col proprio fuso orario, impazziscono di felicità. Qui siamo a Melbourne. Cori, canzoni e fuochi d'artificio, traffico in tilt, ingorghi anche nelle strade secondarie per raggiungere il centro e le città e fare festa tutti insieme. Finalmente, dopo un anno e mezzo terribile, l'Italia sedesca.